Tutti ai posti di combattimento Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Forze nemiche all'orizzonte Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Corazzata nemica individuata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Avvistato l'introciatore nemico Avvistata corazzata nemica Avvistato l'introciatore Avvistato l'introciatore nemico Allarme in centro 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 avistato Corazzata nemica individuata. Corazzata nemica individuata. Corazata nemica individuata. Corazata nemica individuata. Corazata nemica individuata. a picco so 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 Oggi è una scuola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La corazzata nemica sta colando a picco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allarme incendio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.